Buona la risposta dei cittadini abruzzesi alla raccolta di beni alimentari e medicinali avviata dal Consiglio regionale sia a Pescara che all'Aquila a sostegno della popolazione ucraina. Tante le consegne che ogni giorno vengono lasciate nella sala dell'Auditorium de Cecco, in Piazza Unione a Pescara, dove molti pacchi sono già stati spediti e altri partiranno nei prossimi giorni. L'iniziativa solidale nasce da un'idea lanciata dal capogruppo del Movimento 5 Stelle, Sara Marcozzi. Molto positiva la risposta dei cittadini abruzzesi, la raccolta sta andando molto bene, noi stiamo raccogliendo per ora alimenti in scatola ovviamente, quindi tutto ciò che può essere facilmente trasportato e medicinali. Ci tengo a precisare una cosa, stanno arrivando anche degli indumenti, noi però dobbiamo capire come trasferirli, per cui io invito tutti i cittadini di grandissimo cuore, perché basta farsi un giro giù nel centro di raccolta e vedere quanti scatoloni ci sono, quanta solidarietà gli abruzzesi stanno dimostrando al popolo ucraino. Invito però i cittadini a portare medicinali, quelli da noi indicati per ora, e alimenti e non indumenti, la cui raccolta e consegna è un po' più complessa. L'accoglienza ai profughi in fuga dalla guerra da parte del comune di Pescara si rafforzerà ulteriormente nei prossimi giorni, quando il numero di chi fugge potrebbe salire. Per adesso molti degli ucraini arrivati in città e accolti in albergo si sono fermati per una o due notti per poi raggiungere altre località. Chi vive qui da tempo prega per i propri familiari che hanno difficoltà a lasciare il paese e spera che l'incubo possa finire al più presto. Colpiscono i civili, gli ospedali. Io chiedo stop al conflitto, ovviamente, ritirando le truppe russe e bielorusse dal territorio indipendente.